allora procediamo e adesso è acceso sì sì io l'ho già controllato verificato che possiamo procedere all'appello signori buongiorno precede all'appello del verbale 184 dalla seduta 184 di giorno 7 e allora presidente russo presente consigliere girofi presente consigliere carolina assente consigliere ferrara assente consigliere gentile assente consigliere belluso sono presente buongiorno buongiorno consigliere tantillo e allora presidente sono presenti tre consiglieri compreso lei richiamiamo gli assenti per favore questi due minuti che ci rimane e allora consigliere caronia assente consigliere ferrara assente consigliere gentile assente consigliere tantillo assente e non avendo raggiunto il numero regalo e la seconda giornata alle ore 11 e 15 grazie presidente chiudo la legge ma dopo allora presidente io ci provo devo dire che non sono sicuro di poter partecipare